salve a tutti carissime sorelle e fratelli camperisti mi trovo dentro il mio bellissimo camper come sono belli tutti i camper togliamo sfatiamo sta cosa certo ci sono i camper nuovi i camper più datati quelle più grandi quelle più piccoli di tutte le misure ma sostanzialmente il camper è solo quello c'è il mezzo recreazionale che ci permette di tranquillamente uscire non prenotare e andare dove vogliamo noi nel rispetto all'ambiente dell'ambiente vi raccomando non lasciamo spazzatura in giro non scarico facciamo non diamo vita scarichi selvaggi e quant'altro detto questo non voglio fare la morale a nessuno però dico questo perché questo non dovete permettere per colpa di qualcuno ci sono zone che prima liberamente accessibili a noi camperisti e che invece ora sono stati state pregluse a causa di qualche monello che ha fatti comodi propri se qualcuno vuole smentire mi smentisca comunque l'oggetto di questa puntata è semplice intanto io saluto all'amico renato che ho conosciuto quando ero invece di nozze in puglia non ricordo bene renato se tu sei proprio alternativo della puglia ma ci siamo incontrati lì ed è nata una bella amicizia come tutti voi che ci seguite bene o male tra opinioni e quant'altro ci conosciamo anche se solo così in maniera virtuale detto questo su un forum nasce uno scambio di opinioni che da quello che era semplice divenne ferreo ferreo e l'oggetto di queste opinioni era il consumo del ducato ora tendo conto che questo qua dell'amico nostro è un ducato pari al mio c'è un po meno datato il mio del 2017 e il frio del 2018 ma sempre di multi gt2 parliamo mi insiste renato fai un po di confusione perché il tuo camper non è che fa 12 c'è 11 chilometri circa e più al litro dov'è l'errore renato l'errore è semplice perché io dico questo ragazzo che renato che sicuramente fa potrà fare anche lui un commento a cui ho detto che farò questo video e non lo spunto anche perché non è solo renato siete tanti che pensate che il camper vi dica al cuscotto quanto consumi quanti chilometri percorre con un litro per carità in alcuni camper è così ma la direzione diversa la direzione diversa nel camervousCat tracks è 12,00, 0211,5 km Foster oil, che magari non uno che sarà il camper parola ma percorre 12 12, quello che sia chilometri con un litro il caso del camper come quello che avevo del ducato 2003 multi jet che poi fosse 150 130 180 cavalli e penso anche per tutti ormai mezzi di ultima generazione almeno come fiat attenzione come fiat vanno ad indicare che di questo sta parlando il ducato vanno ad indicare non caro renato carissimi amici che avete preso le parti di renato non è per fare qua il professorone ma è quello che è oggettivo riscontro faccio vedere la la foto che mi ha mandato renato ecco come potete vedere in questa foto che è del cuscotto del cambio di renato che è simile al mio perché ormai bene o male tranne l'ultima l'ultima generazione multi jet 3 e poi c'è l'ultima cabina di un anetto a questa parte c'è roba di poco ma l'idea di massimo è quella ma l'indicazione che voi state vedendo in questa foto caro renato amico mio forse pugliese scusami non me lo ricordo in questo momento non è che il tuo camber come fosse il mio percorre 11 km e 200 metri nella fattispecie con un litro di carburante ma bensì sono 11 litri della 11,2 l slash 100 che significa caro renato lo sanno in tanti cosa significa non c'è bisogno poi lo dico così significa che il tuo camber in quel momento in cui ho fatto la foto consumava come consumo medio e poi c'è a e b lo sappiamo tutti come consumo medio 11 litri 200 grammi di carburante per percorrere 100 km per cui devo fare altro che dividere 100 che sono i chilometri diviso 11,2 e ti darà quando in quel momento il camper ti stia diciamo consumando e lo facciamo insieme come potete vedere come potete vedere dividendo 100 che sono i chilometri diviso i litri che mi indica come consumo abbiamo qualcosa come circa 9 chilometri al litro per cui 9 chilometri al litro pertanto caro Renato come avevo potuto ben comprendere e non è perché diciamo c'è chi è professore e chi non lo è è perché anch'io prima in passato quando avevo il primo camper quello vecchio mi indicava in tutta verità i chilometri che consumava per ogni litro di carburante ma in quel caso io ho scritto per esempio 12 12 13 chilometri e chilometri e chilometri sul litro un mio diciamo conoscente che ho incontrato alla fila di parma sia del 2021 che quest'anno del 2022 che mi insisteva che il suo camper facesse 14 e mezzo al litro quando invece il suo camper percorreva percorreva non 14 chilometri e mezzo con un litro di carburante ma era la stessa situazione che ho io cioè il suo camper ci vogliono 14,5 litri per 100 chilometri invece se tu vuoi fare 100 chilometri 100 diviso 45,5 vedrai qualche camper gli farà 6,7 litri non più di quello per cui a questo punto carissimo Renato comunque quello che volevo dirti è che nei nostri camper nel nostro cuscotto questo del Ducato indica non i chilometri che si percorrono con un litro di carburante ma bensì i litri che ci vogliono per 100 chilometri infatti la tradizione è quella 8, 10, 12, 11, 13, L slash 100 litri ogni 100 chilometri va bene carissime sorelle e fratelli camperisti detto questo una puntata così che si poteva magari evitare però c'è stato chi come l'amico Renato che in maniera coriardica ma pensando di avere ragione ha detto ma ti riprende la responsabilità di dirlo pubblicamente non c'è nessuna responsabilità ma un dato oggettivo un dato di fatto le responsabilità sono altre le responsabilità per noi camperisti sono poche e quello che ho detto all'inizio mi rilascio al discorso all'introduzione iniziale non sporchiamo non buttiamo la spazzatura e dove siamo la spazzatura la dobbiamo differenziare se del caso come ho fatto io questo vero di siccome non ho trovato dove buttare la spazzatura l'ho legata l'ho messo fuori ma la sono portata qua a Siracusa io sono andato a casa ieri sera l'ho differenziata questa mattina che l'ho detto c'era l'organico ho messo l'organico e poi man mano quando vorrà il giorno giusto la differenziarò perché è importante differenziarlo anche nei giorni giusti anche in città quando siamo a casa per cui io vi saluto e voglio bene un abbraccio e comunque il camper conviene sempre che faccia setta al litro che faccia 10 al litro non è importanza io ho immaginato 150 mila chilometri 9 anni con un Ford Transit gemellato andavo sempre pesante col piedino mi faceva 7 6 e mezzo massimo 7 e mezzo insomma ci ho camminato uguale per cui io devo comprare il camper e poi dire ma quanto mi fa quanto mi consumo al litro non ve lo chiedete altrimenti facciamo la figura di quello che si va a comprare la Porsche la Ferrari la Maserati e poi chiedere quanto consumo al litro inaccettabile vi auguro tante belle cose un abbraccio e per Natale giriamo i mercati di Natale noi li gireremo qua in Sicilia e faremo tanti 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 bei video ciao alla prossima